Eccoci qua, bentornati in studio e benvenuto al professor Alberto Gambino con cui discuteremo, approfondiremo i temi del digitale. Abbiamo detto che questo non è un programma che si occupa di aspetti tecnologici, ma cerchiamo di mettere tutti i paletti intorno a una discussione di approfondimento sul digitale, sui suoi riflessi sociali ed economici. Il professor Alberto Gambino brevemente riassume un curriculum che è sterminato, è prorettore dell'Università Europea di Roma, avvocato castazionista, ha insegnato diritto industriale alla LUIS, ha insegnato a Napoli, ha insegnato diritto dell'informatica, è presidente, leggo perché, come dire, dell'Italian Academy of Internet Code, l'IAIC, e dell'Associazione Nazionale Scienze e Vita. Questo Gambino da anni fa ricerca, studia, ha un ruolo di civil servant perché è stato ed è in comitati che fanno riferimento alla nostra pubblica amministrazione, al governo, sui temi sempre all'avanguardia, in particolare sui temi dei media, sui temi dell'informatica, incrociandoli con quelli che sono poi gli aspetti etici e di responsabilità sociale. Il digitale, su questi aspetti e su questi temi, interroga e coinvolge un po' tutti, rischi, opportunità, problemi etici. Dopo di lei ci sarà il presidente Trieste, il presidente di Fiabba, che ci parlerà del digitale a sostegno delle persone dotate di disabilità, portatori di disabilità. Dopo di che ci sarà anche il dottor Diacetti di Ancilazio, che invece parlerà del 5G e dei comuni. Ecco, con lei ci aiuti un po' a contestualizzare un po' il tema. Digitale sì, ovviamente, ma digitale come e digitale quanto? È evidente che il rischio non è il digitale, il rischio è l'uomo, è la donna, cioè colui che usa il digitale e come lo usa. Quindi la neutralità che è dentro le tecnologie è dai tempi, diciamo, plurimillenari che hanno attraversato l'umanità. L'utilizzo delle tecnologie, tanto più viene poi delegato, ad esempio, a un programma informatico, tanto più se all'origine ha un ordine, un algoritmo errato, tanto più crea danni. Quindi il problema di fondo è riuscire a comprendere che sullo sfondo ci sta sempre un programmatore umano. Poi, se quel programmatore a un certo punto disgiunge via via la capacità di un algoritmo di sostituire le persone nel ragionamento, nella manualità, e addirittura quell'algoritmo a un certo punto comincia a ragionare e a creare altre vicende che non erano state pensate dal programmatore, e lì si annida un rischio. Ma il rischio l'ha voluto il programmatore, non è che l'ha voluto l'algoritmo. Mettiamo i piedi nel piatto, le faccio un elenco velocissimo. Manipolazione della realtà, quindi dei fatti, quindi, come dire, induzione a comprare o addirittura induzione a votare, quindi con rischi per democrazia digitale. Algoritmi, dobbiamo temerli veramente? Dobbiamo temere l'intento economico che sta dietro l'algoritmo. L'algoritmo di per sé non lo dobbiamo temere. Laddove invece l'algoritmo diventi uno strumento per istradare la volontà, potremmo dire, commerciale dei cittadini. Noi abbiamo delle scelte, siamo anche consumatori per gran parte. Per gran parte della nostra giornata noi siamo consumatori. E in quella giornata, se le nostre scelte sono scelte critiche, libere, ciò che ci piace, ciò che non ci piace, se invece sono scelte che in qualche modo vengono condizionate da un istradamento, perché ad esempio si limitano l'offerte e quindi noi online troviamo solo alcune offerte, oppure addirittura veniamo istradati su alcuni bisogni che magari in punto di partenza non abbiamo, ma che vengono indotti da magari un bombardamento algoritmico legato anche al fatto che noi lasciamo delle tracce dei nostri comportamenti e quelle tracce oggi dentro il big data vengono rielaborate e vengono ad assumere dei profili. Profili non come siamo noi in carne ossa, ma profili nel senso economico, che capacità di spesa abbiamo, quanti acquisti abbiamo fatto su internet. Allora quello è molto interessante per un'azienda, sapere che io sono uno che spende tanto in libri piuttosto che non in software. A quel punto mi vengono presentate tutta una serie di offerte, questi banner che arrivano all'improvviso online e condizionano anche la mia libertà di scelta. Questo è il tema dove invece le autorità, la regolazione, deve dare la massima trasparenza, perché se c'è la trasparenza non c'è da temere nulla. Che possono condizionare anche le nostre scelte elettorali, le nostre scelte diciamo. E tanto più se le scelte elettorali sono condizionate da un potere economico. Un tempo, un tempo, la politica governava l'economia. Pensi a Luigi Enaudi. Enaudi era un grandissimo economista, presidente della Repubblica. I suoi discorsi, i discorsi politici di governo della cosa pubblica, pur essendo un grande economista. Oggi si è ribaltato tutto. E allora è lì che bisogna temere. Perché se gli algoritmi condizionano anche le scelte economiche, che sono anche politiche, beh, attenzione che c'è il tema della democrazia. Lei ha accennato prima al tema dei big data. Big data e privacy. Lei è anche direttore del dipartimento che si occupa di questi temi presso lo studio Gambino. Ecco, il tema della privacy e il tema del regolatore, quindi con l'incapacità o forse impossibilità o forse difficoltà a regolare in maniera uniforme e omogenea un tema che è, come dire, è worldwide, cioè non possiamo più avere regolatori. Qual è il pericolo che corriamo anche con tutto questo tema delle app che ci chiedono continuamente dove siamo, che facciamo, no? Leggevo l'altro giorno che ci sono anche le app che per darti una ricetta ti chiedono dove stai. Quindi, allora, se io devo, se io chiedo informazioni sul traffico, è ragionevole che tu mi chieda dove sto, ma se ti chiedo la ricetta per i gamberoni, perché devo dirti dove sto e chi sono? E il tema dei nostri dati non è tanto il dato in sé, quanto la capacità di raccogliere tanti dati da parte delle aziende e attraverso questa grande mole di dati sapere in anticipo quello che a noi può far piacere fare in alcune situazioni. E bisogna distinguere fra quei dati che sono molto sensibili, che riguardano le opinioni personali, il credo religioso, le opinioni politiche, e quei dati che invece sono, potremmo dire, dati un po' commerciali, i nostri acquisti, quello che lasciamo, che alla fine vengono un po' mercificati e anche un bene che vengano mercificati, ma vanno riconosciuti come dati che non intaccano i nostri profili inalienabili. Allora, con questa distinzione, noi abbiamo anche a livello giuridico normativo un buon presidio importante sui dati che riguardano la dignità della persona, che invece sono intangibili. Pensi ai dati sanitari. I dati sanitari non possono essere messi in commercio, ci sta dentro tutta la nostra storia di cura, di terapia, che assolutamente deve rimanere dentro il nostro foro interno e del curante, del medico. Invece ci sono dati che riguardano quello che facciamo un po' tutti i giorni, che talvolta ci facilitano la vita, perché a quel punto noi ci ritroviamo, magari è già non quell'istratamento ingannevole, ma un istratamento pienamente consapevole, dove invece velocizziamo le nostre ricerche, perché obiettivamente abbiamo già una risposta. Per chiudere, intelligenza artificiale, so che lei su questo tema, tra l'altro credo che stiate organizzando un master, però su questo tema, chiudiamo però su questo tema, intelligenza artificiale, macchine pensanti, macchine sapienti e poi il master per chi è e quando parte. Il master è un master di primo livello, quindi per laureati triennali, partirà intorno al 20 febbraio, basta andare sul sito dell'Università Europea di Roma e si trova questo master sull'intelligenza artificiale. Segnalo un aspetto, e questo forse meriterebbe un'intera puntata. L'intelligenza artificiale, non illudiamoci, non sostituirà i lavori manuali, come fu in passato, sostituirà noi due. Saranno le professioni intellettuali ad essere superate proprio dall'intelligenza artificiale. Allora tanti che dicono, ma l'intelligenza artificiale ha tanti pregi, ma insomma incentiviamo, si pongano il problema dei liberi professionisti. Pensi alla giustizia predittiva, pensi ai giudici che tra un po' saranno sostituiti da un software. Forse è un bene, perché magari sbagliano di meno, però i primi che verranno ad essere intaccati nelle loro capacità professionali, questa volta non è l'operaio del fabbrica, ma sarà il libero professionista. Questo è un aspetto assolutamente interessante. Che pone questioni etiche e di responsabilità sociale. Etiche e di deontologia, e noi abbiamo la deontologia. Pensi, un giudice che sta giudicando una persona che potrebbe essere suo figlio, e quindi anche il pathos che c'è. Quando è un algoritmo, è freddo, è indifferente tutto, non ha in qualche modo quella compassione tipica degli esseri umani. Questo è il grosso rischio che c'è nella sostituzione della decisione algoritmica alla decisione umana. Bene, grazie, ringraziamo il professor Gambino che ci ha illuminato, ci ha indicato un po' di temi che approfondiremo poi nel corso di queste puntate. Grazie ancora professore. Uno stacco di pubblicità e ci vediamo tra 30 secondi di studio.